Fiducia, ma anche tanti aspetti che vanno migliorati. Si può riassumere così l'analisi effettuata da ConfCommercio in occasione dei saldi estivi, al Via Domani, nel Lazio e quindi anche a Civitavecchia. Secondo l'associazione di categoria, il 68,8% dei cittadini intervistati è intenzionato a fare acquisti durante questo periodo di sconti, soprattutto per comprare articoli visti in precedenza. In particolare, oltre il 70% opterà per un capo d'abbigliamento, mentre il 45% è direzionato verso il settore calzature. L'e-commerce continuerà a essere una scelta utilizzata, anche se il 45,5% acquisterà comunque offline, il 5,6% solamente online e il 39% in entrambe le modalità. Per quanto riguarda i luoghi preferiti per lo shopping, la maggior parte dei cittadini di Civitavecchia preferirebbe frequentare i negozi della città piuttosto che regarsi ai centri commerciali. Aspetto questo che sottolinea il desiderio di supportare il commercio locale è di vivere un'esperienza di shopping più personalizzata e caratteristica. Proprio con l'obiettivo di fare acquisti in un luogo dedicato, quasi la totalità dei cittadini intervistati richiede un restyling nella zona di Corso Marconi, dove sono presenti oltre 100 attività. Una richiesta che fa il paio con il desiderio di vedere finalmente un mercato cittadino riqualificato, oltre alla richiesta relativa ad una mobilità che consenta di non dover utilizzare obbligatoriamente l'auto per fare shopping. I commercianti richiedono invece che i pullman che portano i croceristi in visita alla città facciano più fermate, permettendo ai turisti di scendere e visitare i negozi locali e incrementando significativamente le vendite durante il periodo dei saldi. Infine, secondo ConfCommercio, numerosi commercianti stanno sollecitando le istituzioni per ottenere la possibilità di assumere personale direttamente dagli istituti tecnici con modalità di stage e con contributi speciali che permetterebbero di contribuire all'apertura prolungata dei negozi stessi, migliorando il servizio ai clienti e offrendo opportunità formative ai giovani del territorio. Abbiamo visto che molti cittadini e molti commercianti credono ancora nella possibilità di realizzare una città a transizione turistica e al contempo commerciale, afferma il vicepresidente di ConfCommercio Cristiano Avolio. Servono interventi mirati da parte delle istituzioni che trasformino la città di Civitavecchia in una città più funzionale. Siamo convinti che argomenti come il miglioramento degli arredi urbani, la digitalizzazione della città e la formazione relativa ai giovani abbiano come obiettivo l'aumento della qualità di vita di tutti. L'associazione di categoria si dice a completa disposizione delle istituzioni e di tutti i commercianti per promuovere insieme uno sviluppo attivo, collaborando fattivamente anche con il gruppo Giovani Imprenditori Roma, di cui lo stesso Avolio fa parte, ricevendo poche settimane fa anche la delega alla formazione.